buonasera amici di internews.it redoneerazzurro e ben ritrovati con una nuova edizione di gr internews la notizia di oggi riguarda stefan defray l'olandese infatti dopo gli esami strumentali svolti in olanda a causa del problema fisico accusato contro il montenegro proprio nel match di qualificazione mondiale con la sua olanda hanno evidenziato dunque uno stop di 10 15 giorni almeno con un risentimento al muscolo dell'adduttore evitate lesioni più gravi dunque defray dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di venezia del 27 novembre e dovrà saltare ahimè la partita contro il napoli del 21 novembre e l'impegno in champions league che sarà fondamentale contro la shakhtar donna per conquistare il pass qualificazione per gli ottavi le soluzioni per simone inzaghi dovrebbero essere due una di schierare alessandro bastoni centrale nella difesa 3 con federico di marco come braccetto di sinistra mentre l'altra soluzione riguarda lo schieramento dal primo minuto di andrea ranocchia con bastoni a sinistra lo stesso bastoni aveva accusato un piccolo problema in nazionale allarme rientrato il giocatore già a milano e si sta allenando per tornare in forma proprio contro il napoli così come ed in gecko che sta proseguendo nel suo percorso di recupero in vista del match contro i parte onopei intanto stasera barella dovrebbe scendere in campo nuovamente titolare nell'italia contro l'irlanda nel nord nel match che vale la qualificazione al prossimo mondiale in catara nel 2022 dunque vedremo quale sarà il minutaggio del centrocampista nerazzurro nei prossimi giorni infine dovrebbe arrivare a milano il padre agente di marcello brozovic si pensa nella giornata tra giovedì e venerdì per cominciare la discussione del rinnovo del contratto proprio del centrocampista coroato con la dirigenza nerazzurra questa era la nostra ultima notizia di oggi l'appuntamento ecco l'edizione di domani di gr inter news grazie di essere stati con noi e buona serata a tutti per restare sempre aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore se sei interista non puoi non aver già scaricato praticamente e recensito l'app android o ios per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'inter ci trovi anche su facebook twitter instagram youtube e telegram se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a pinte nero azzurre internews.it è quello che fa per te